eccoci bene a questo punto chiamiamo sul palco la nostra seconda speaker un gradissimo ritorno patrizia menchiari ciao a tutti mi sentite sì ciao patrizia testo partire con mi sentite ma stavolta mi è scappato anche per me è una gioia essere di nuovo qui e questa chiamata allearmi diciamo così mi ha dato l'opportunità di ripensare un po alla mia carriera e al ruolo che freelance camp ha avuto anche nel farmi evolvere quindi è una gioia condividere con voi alcune riflessioni che ho fatto benissimo quindi tu ci parli oggi di una cosa veramente importante per tutti e tutte come si fa come ce l'hai fatta a lavorare con i clienti che ti piacciono e io penso questo debba essere l'auspicio per tutte le persone che ci stanno ascoltando bene allora partiamo con mi piacerebbe mi immagino di essere al bocca barranca e di vedervi tutti e sarei partita con questa domanda avete mai lavorato con un cliente che non vi piace tanto do un po per scontata la risposta positiva perché lavorando con tanti freelance a tutti è capitato insomma di dire ma accidenti mi sono messo in proprio per liberarmi dal gioco di capi incompetenti o presuntuosi o arroganti e mi trovo invece a subire le prepotenze diciamo così di clienti che 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 non mi piacciono e che cosa intendo per cliente che non ci piace nella mia esperienza ci ho ragionato un po e ho pensato che ce n'erano anche altri tipi ma fondamentalmente i clienti che mi hanno dato più fastidio sono stati quelli di cui ho percepito questi e questi comportamenti il primo è una certa tendenza ad allargarsi il cliente che ti sfrutta è quello che vuole pagare un po di meno che chiede lo sconto è il cliente che cerca anche di superare i confini che vi siete dati della collaborazione e quindi magari ti chiama fuori orario o ti chiede qualche extra poi c'è un'altra categoria che è il cliente invece che paga poco volentieri paga in ritardo vuole lo sconticino ti continua a fare battute sul fatto che sei molto caro o cara e quindi da diciamo poca soddisfazione sul fronte del riconoscimento del proprio lavoro poi per usare il gergo dei miei figli adolescenti c'è il cliente invece quello che scompare che ti gosta o non fa la sua parte e quindi blocca il progetto perché quello che lui ti deve dare non lo non partecipa più a un certo momento oppure letteralmente dirà dalle risposte tende a essere introvabile finché la motivazione anche tua al progetto un po un po cade e bisogna però tutelarsi ci sono infine anche i clienti che mostrano chiaramente di non aver capito il quanto il tuo valore e e quindi un po minimizzano spesso coincide con quello che ti vuole pagare di meno o non ti riconosce quanto hai chiesto e infine ci sono dei clienti che percepiamo come non coerenti con i nostri valori quindi lavorare con qualcuno che non stimiamo o in alcuni casi che disprezziamo e ci dà fastidio il modo in cui ragiona può essere estremamente faticoso allora a questo punto mi vorrei fare un preambolo e spiegare di che cosa mi occupo e come sono arrivata ad avere oggi il 99 per cento dei clienti che mi piacciono e con cui lavoro con gioia io ho iniziato nel 98 l'anno in cui è nato google è l'anno in cui mi sono laureata ho iniziato a fare alcune collaborazioni facevo l'assistente universitaria ho iniziato a fare la la formatrice a fare piccole consulenze forte della mia laurea mi sentivo molto molto sicura di me pensavo di essere veramente al top e questo è perché soffrivo evidentemente della sindrome danni in kruger che è una distorsione cognitiva che ci spinge a sovrastimare le nostre competenze quando in realtà spesso non siamo poi così preparati ed è tipico di chi è magari agli inizi e si sente di aver raggiunto un risultato è un po come la sindrome che hanno quelli che si sposano o che finalmente finisce la gravidanza nasce un figlio e pensano di essere arrivati non hanno capito niente perché è lì che invece inizia tutto e la mia strategia aveva una strategia molto articolata facendo coio coio mi chiedono di andare a fare un corso per le parrucchiere pronti e mi chiedono di fare telemarketing per reclutare clienti per un'azienda di servizi come no facevo qualsiasi cosa mi chiedessero e chiunque me lo chiedesse e il mio logo la mia diciamo comunicazione aziendale era fortemente coerente con questa strategia perché avevo avevo un logo bellissimo che condivido con un certo non ho più imbarazzo sono abbastanza vecchia da sorriderci adesso ma fino a qualche anno fa l'avrei tenuto nascosto ecco tenete presente che quella girandola terrificante era una gif animata quindi nel mio sito che mi sono fatta io perché 25 anni fa se uno era avanti il sito se lo faceva da solo era una girandola che girava studio pa men nome coniato da da mio padre dietro perché inizialmente ebbi una ss nello studio del notaio per pa men stava per patrizia e paolo menchiare una cosa terrificante 25 anni dopo 27 cambi anche della grafica di google sono molto più umile di 25 anni fa perché più studio più cresco più faccio progressi più mi sento profondamente ignorante incompetente sento che il mio bisogno di mettermi in discussione è sempre in crescita e alcune cose però le ho capite per esempio ho capito come crescere in maniera sostenibile in alcuni casi anche decrescere intendo dire che se per anni ho fatto tutto quello che c'era da fare sono andata a tutti i possibili eventi e avevo soffrivo di una sorta di bulimia professionale adesso invece mi sto so anche dire di no so mettere i confini e so fare delle delle scelte e a volte dire di no anche a progetti che non sono in linea con le mie corde o per cui non non penso ne valga ne valga ne valga la pena adesso commercialmente ho una strategia e so bene quali sono i clienti giusti per me di che cosa mi occupo io mi occupo di marketing sono faccio consulenza alle piccole e medie imprese soprattutto strategica formazione in ambito comunicazione anche in aziende molto molto grandi quindi ho due tipi di target non lavoro più con i piccoli con le piccolissime imprese con i professionisti non sono più nel mio pubblico e nel mio sito è chiara la la promessa cioè vuoi avere clienti fedeli e soddisfatti infatti a differenza di mille consulenti di marketing io sono specializzata nel tema della retention su questo tema della retention della relazione del dell'amore anche con i clienti con gli stakeholder ho scritto un libro nel nel 2018 che si chiamava cardio marketing e che mi ha aiutato a svoltare questo per spiegare un pochino l'ambito a questo punto chi mi ascolta potrebbe dire bello molto bello ma quindi come sei riuscita a cambiare clienti ea non lavorare più con tutti quei clienti che ti davano fastidio e hai citato prima bene crescendo si scopre che le altre persone non le cambi quello che possiamo fare è cambiare noi stessi e come ci relazioniamo con gli altri quindi non li ho cambiati continuano a esistere quei clienti e con alcuni di loro ci lavoro anche semplicemente li tra virgolette educo e mi pongo in modo tale per cui si lavori nei confini del rispetto reciproco e della soddisfazione reciproca quindi non ho cambiato i clienti sono cambiata io e quindi voglio condividere con voi le mie riflessioni e quello che avrei voluto forse sentirmi dire 25 anni fa ma anche 15 anni fa anche 10 anni fa perché devo dire che la condivisione di esperienze tra freelance per me è stata preziosissima e mi ha aiutato a svoltare quindi se qualcuna delle riflessioni che seguono possono essere utili a qualcuno ne sono ne sono felice allora andiamo a vedere i tipi di clienti uno per uno e partiamo da quello che si allarga quello che oggi è il primo dicembre e oggi pomeriggio arriva e dice allora è arrivato il momento di pensare a natale no amore a natale si pensa a settembre ok quindi la me di 15 o 20 anni fa gli avrebbe risposto magari non è possibile gli avrebbe messo un muro oppure si sarebbe fatta in quattro per preparargli il lavoro di natale a natale ok e allora la primo primo aspetto perché poi tutto si può fare cioè posso anche decidere di lavorare oggi per ieri se il gioco ne vale la candela quindi se sono adeguatamente motivata a farlo ma la prima regola è questa non avere vergogna di farti pagare questo suggerimento può sembrare clamoroso ma nel caso di moltissime professioniste soprattutto donne vi assicuro che c'è una certa ritrosia nel volere essere pagate essere pagate il giusto soprattutto se fai un lavoro che ami alla follia e ti appassiona a me capitava nei primi tempi di dire cavoli ho tenuto una giornata di formazione mi sono divertita tantissimo eravamo in questo bello hotel c'era un pranzo un buffet meraviglioso chiacchierato con tutte queste persone mi hanno dato soddisfazione mi hanno persino fatto l'applauso e quasi mi sentivo in colpa la sindrome dell'impostore nell'essere lì ed essere pagata per quello che avevo fatto non dico che li avrei pagati io ma anche quasi ecco quindi la prima cosa è che non solo è bello ma è giusto è sacrosanto e personalmente la famosa fesseria che gira trova un lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno nella tua vita no non è vero perché quando lo ami il rischio è che lavori anche il sabato anche la domenica anche i festivi quindi diventa fondamentale imparare a tutelarsi e allora come facciamo a non farci sfruttare un'altra dote trasversale una soft skills che purtroppo la scuola non ci fornisce e dobbiamo lavorarci noi è l'assertività banalizzando l'assertività e quell'atteggiamento equilibrato tra la via di mezzo tra l'essere remissivi e aggressivi da giovane professionista mi capitava di essere remissiva ma veramente io natale è fra venti giorni avresti dovuto dirmelo va bene dai per questa volta remissiva quindi tu sei ok e io sotto oppure aggressiva se non passivo aggressiva per cui no non è assolutamente possibile avresti dovuto dirmelo prima tutto si può dire ed è fondamentale saper mettere i confini ai clienti possibilmente senza dire no no è una parola che non dovremmo mai pronunciare possiamo allenarci a dire guarda per garantire il miglior risultato quello che posso fare è oppure con questo budget possiamo lavorare su questi obiettivi oppure ti do due alternative quindi trovare soluzioni mutualmente soddisfacenti con equilibrio con uno stato di equilibrio anche di valore di autostima quindi non striscio e non ti metto i piedi in testa non ti faccio sentire un cretino solo perché di marketing non sai niente ti rispetto comunque perché anche se sono vengo a completare le tue conoscenze e mi rendo conto di quanto magari tu non sappia niente della mia materia serve rispetto reciproco e poi un'altra cosa che si impara è chiarire molto bene i patti allora quando ero giovane mi capitava di andare per il famoso primo appuntamento conoscitivo e di fatto gli facevo il questionario completo no mi facevo dare tutti i materiali e stavo lì tre quattro ore una roba folle tre quattro ore del mio tempo oggi te li do se sono pianificate sono parte di un percorso ad oggi al massimo che ti posso dare per un appuntamento conoscitivo è un'ora so di professionisti che si fanno pagare anche per quello così come so di negozi di abiti da sposa che si fanno pagare per provarlo se ci riuscite bene io non lo trovo molto carino perché mi piace comunque dare a tutti un'opportunità di conoscerci anche a quelli che dopo due secondi ho già pensato non lavorerò con te ma perché perché marketing fondamentalmente fa parte del nostro capitale relazionale e lasciarsi bene e tra l'altro si impara tantissimo anche dalle persone con cui magari non lavorerai quindi concedersi la possibilità di conoscere qualcuno è una cosa che a me arricchisce ecco oltre a arricchire le possibilità che un domani questo diventi il cliente giusto o porti altri clienti quindi non ci sfruttano se noi non glielo permettiamo le persone ci mettono i piedi in testa nella misura in cui glielo permettiamo dobbiamo tirar fuori le spalle pancia in dentro essere sicuri del nostro valore e dire volentieri posso fare questo e le condizioni sono queste quando immagino questa scena immagino me stessa con un bel sorriso all'americana con le faccette luminose ting la stellina nel dente tipo la casalinga americana che appena l'indato anzi più italiana veniamo al cliente che casualmente si dimentica di pagare la fattura oppure quello che dice è un po caro ma mi fai lo sconticino allora prima di tutto mi riallaccio al punto precedente ovvero dobbiamo garantire a noi stessi di lavorare in condizioni remunerate quindi non esiste di andare avanti a lavorare per un cliente che non sta rispettando i patti non sta comportandosi in modo coerente e quindi semplicemente se la fattura in ritardo non mi metto a mendicare o strisciare se per favore gentilmente poteva allora al primo richiamo sono molto gentile naturalmente non minaccio di adire le vie legali come a volte mi capitava di fare quando ero giovane a volte un po aggressiva ma comunque con dolce fermezza dico la fattura è scaduta puoi verificare per cortesia mi puoi dire quando verrà saldata grazie buona giornata ok e con recupero crediti comunque gentile e inesorabile che cosa intendo intendo che non aspetto più uno due mesi dalla fattura scaduta la settimana dopo che è scaduta ti do cinque giorni se non mi hai pagato entro una settimana inizio mi segno in agenda e ti veramente faccio il lavoro della goccia ti prendo per sfinimento finché mi è capitato un paio di volte di dover andare per avvocati e comunque in venticinque anni alla fine ho perso sono rimasta fuori di 1600 euro quindi tutto sommato non non male al cliente invece che ci fa pesare quanto siamo cari vorrebbe lo sconticino io dico sempre che scontare è un bruttissimo messaggio vuol dire che quello che valeva 100 un minuto dopo sulla prima richiesta improvvisamente vale di meno non aumenta il valore percepito quindi quello che io rispondo quando me lo chiedono ma fortunatamente è difficile che oggi me lo chiedono se me lo chiedono è perché o sono volato un po alto oppure hanno un po di difficoltà per esempio il fondo non gli riconosce una sorta una parte dei dei costi insomma mi chiedono di andarli incontro ma non perché non danno valore al mio al mio lavoro semplicemente perché in azienda i costi sono tanti e vanno in competizione tra di loro quello che rispondo quando mi chiedono lo sconto è quello che ti ho quotato è la cifra che serve è il valore che serve per per raggiungere gli obiettivi quindi se il problema è il budget dimmi il tuo budget e vediamo che obiettivi possiamo raggiungere con un altro lavoro oppure quello che posso fare è che ti omaggio una parte questo permette anche di tenere meno quantificabile magari il valore non sminuirlo perché qualsiasi cosa che viene deprezzata improvvisamente senza un valido motivo oppure mi è capitato di essere io a fare uno sconto a un cliente che avevo fatto aspettare tanto quindi per ringraziarti della tua pazienza ti omaggio questa cosa o ti faccio uno sconto ma deve esserci un motivo ok quindi altrimenti negoziamo e naturalmente mi tutelo per cui non mi faccio pagare a corpo alla fine del progetto ma con simpatiche rate o tranche che mi tutelano e questo è anche la strategia ideale per il cliente che sparisce il primo motivo per cui un cliente sparisce che probabilmente non aveva le idee chiare sulla lunghezza del progetto su come si sarebbe sviluppato e il motivo per cui il cliente non ha le idee chiare che spesso anche tu io il for il for il for il professionista naviga un po vista all'inizio è perfettamente normale quindi magari c'è un disinnamoramento reciproco per noi professionisti fare off on off off nei progetti è molto costoso mentalmente anche quando ho fatto dei lavori di copywriting se aspetti le risposte passano due mesi quando ti ridevi mettere a prendere in mano il progetto è molto impegnativo quindi ci sono delle diseconomie e andrebbe veramente creata e condivisa con i clienti una road map di progetto all'inizio non la sai fare una che sia un ganto che sia un piano chiaro degli step qui ci vedremo tu mi darai questo e finché non me lo dai io mi fermo quando me lo dai io ti faccio questo questo piano di lavoro condiviso via via che si cresce professionalmente aiuta anche a quantificare il nostro effort e a imporci anche di stare in quello che abbiamo quotato valutato o valutare dei cambiamenti come ho già detto farsi pagare in tranche mensili o almeno stato avanzamento progetto è un modo di tutelarsi per cui se il cliente per qualsiasi motivo sparisce tu comunque fino a lì sei stato pagato in altri in altre situazioni per esempio mi è capitato con aziende molto grandi e molto disorganizzate perché non è il problema la grandezza ma la disorganizzazione e la maleducazione che ti cancellano all'ultimo momento perché nessuno si era dato pena di scoprire se i partecipanti facevano la fiera quindi tu hai fissato un corso mesi prima loro ti chiamano dicendo ma purtroppo i commerciali sono in fiera ok ciccio dovevi verificarlo prima ho inserito nel mio contratto una penale quindi se c'è motivo per disdire me lo dici possibilmente entro due settimane prima a meno che voglio dire ci sia caso di forza maggiore la malattia la morte va bene di fronte a quello ma se tra l'altro sei talmente spudorato da dirmi che cancelli danneggiandomi economicamente per una tua disorganizzazione paghi una penale quindi io non vengo ma tu mi paghi un 20 30 per cento e questo lo firmano quindi io glielo spiego quando firmano il contratto e molto in maniera molto chiara non illeganese lo firmano glielo spiego con la massima semplicità e dolcezza e questo permette di prevenire i problemi veniamo al cliente che non capisce il tuo valore in realtà del nostro valore a loro non gliene frega niente non gliene frega niente di quanto siamo bravi gliene frega di quanto vale quello che possiamo fare per loro ed è questo che devono capire ed è questo che spesso all'inizio della carriera non si è bravi perché si punta sul costo quanto costano otto ore di formazione il focus va spostato sul valore quanto vale avere i tuoi dipendenti che conoscono le tecniche per affrontare un reclamo e trasformarlo in un cliente soddisfatto di fronte a questa competenza potenzialmente c'è un valore incalcolabile perché la mancanza di questa competenza genera dei costi incalcolabili quanto vale avere collaboratori che comprendono cosa scrivono via mail e comprendono che ogni mail inefficace o irritante nei toni può generare enormi perdite di tempo o irritazione nei clienti quindi il valore di questa competenza l'ho compresa quando è venuta da me l'amministratrice delegata di una famosa azienda che era stata chiamata in tribunale ed erano state mostrate le mail dei dipendenti per una causa internazionale come prova proiettata in tribunale e lei mi ha detto mi sono sentita imbarazzata per la leggerezza con cui manager di 50 anni usavano le mail aziendali come se fosse la lavagnetta dell'asilo per fare gne gne in maniera veramente poco professionale quanto valevano le mie ore di formazione? il valore di quello che ho potuto dare a queste persone è stata la consapevolezza, la prevenzione di un numero incredibile di errori potenzialmente molto costosi e quindi io sì ti dico che più o meno c'è un costo all'ora ma spesso in funzione anche del valore che ti do faccio un preventivo che non è un tanto al chilo preferisco non essere vista come la cottimista perché? perché sposto il focus non sul fatto che io sono stata da te otto ore questa è una valutazione povera ma sul fatto che con otto ore di formazione le persone avranno gli strumenti per risolvere o prevenire tutti questi problemi quindi sostanzialmente mi riallaccio a quello che diceva il relatore precedente focalizzarsi proprio sul pain o sul gain aiuta a spostare il focus quindi non è il cliente che non capisce siamo noi che non spieghiamo il valore ok? e poi naturalmente dobbiamo essere anche consapevoli di quanto ti costa fare a meno di quella competenza perché io lo dico sempre la formazione o la consulenza costano ma spesso farne a meno ha un costo infinitamente maggiore quindi dobbiamo un po' allenarci a comunicare in termini di valore non di ore è come se fossimo insomma la signora delle pulizie con tutto il rispetto per quel lavoro ma per il valore che generiamo e ricordiamoci che agli occhi degli altri siamo quello che comunichiamo l'ultimo cliente che ci può dar fastidio è quello con cui facciamo fatica con i valori tenete presente che io ho scritto un libro dove c'è messo marketing e relazioni con i cuoricini e lavoro per lo più nel Brescia, Bergamo, Verona zone molto industrializzate dove c'è una cultura estremamente tradizionale ora le cose stanno cambiando ma in molte aziende dove vado è abbastanza normale che in produzione si bestemmi per chiedere alle persone di essere più motivate ecco questo è un po' il livello culturale e di valori credo che non potrei lavorare con aziende che fanno le armi eppure ho lavorato con aziende molto inquinanti aziende chimiche, aziende anche che usano il marketing per raccontare ed ulcorare il loro impatto nel tempo ho imparato comunque a focalizzarmi sugli obiettivi condivisi posso non condividere il core business di quell'azienda ma può comunque essere per me un valore aiutare quelle persone di quell'azienda lì a stare bene, lavorare con minore conflittualità o essere più efficaci perché alla fine io lavoro con le persone quindi ho imparato anche a staccarmi da cose che non mi competono e focalizzandomi sugli obiettivi che condividiamo spesso si può lavorare molto bene anche con persone che magari hanno idee politiche o valoriali diverse soprattutto se non dobbiamo necessariamente parlare di quei temi lì il mio posizionamento è quello molto focalizzato sulle relazioni quindi di fatto per la consulenza se qualche imprenditore vede i cuoricini e pensa che le relazioni sono una cagata che per lui importante sono i soldi, il profitto, il fatturato e non crede che le relazioni siano fondamentali va benissimo, non viene da me semplicemente andrà da qualcun altro che magari lo mette in un palazzetto in mezzo mille wannabe, marketing di successo, Dubai, questo e quell'altro gli dirà se è un figo userà un altro tipo di stile di posizionamento, di valore è perfetto per cui chiarire nel mercato qual è il nostro posizionamento anche in termini di in che cosa credo e qual è il mio stile aiuta quindi nel mio caso è stato il libro che poi è diventato il nome della mia società che è Cardio Marketing qualcuno lo confonde col Cardio Fitness però a parte quello capiscono che c'è di mezzo il cuore e le relazioni e se gli fa schifo it's ok fortunatamente ho anche tanti imprenditori che leggono il mio libro e poi mi chiamano e mi capita di trovare la sala del consiglio di amministrazione o va quelle ovali lunghe con una copia del libro su ogni postazione e consiglieri atterriti che pensano che due palle che già lo vedo che mi odiano e quindi li devo conquistare e far vedere che anche se il capo li ha obbligati a leggere il mio libro sono meno pallosa di quello non che il libro sia palloso però insomma e imporre dall'alto una lettura una filosofia non è mai quello che consiglierei a un cliente comunque quello che voglio dire è che avendo letto il mio libro che è un po' il mio manifesto vengono e dicono io ci credo in quello che tu dici aiutami a realizzarlo e questo è stato anche la mia forma di cambiamento a livello di marketing più importante per qualcuno potrebbe essere scrivere come lavoro io ricordo adesso un po' che non lo vedo il sito di Alessandra ma Alessandra è sempre stata molto chiara ed è stato uno dei miei punti di riferimento ma anche Miriam io lavoro così la mia giornata costa da devi aspettare tot preferisco che tu faccia questo e quell'altro cioè la chiarezza nelle relazioni fa sì che qualcuno magari dice no io con te non ci lavoro ottimo e anche a volte essere chiari con i prezzi permette di evitare di perdere tempo per qualcun altro o qualche mio collega per esempio condivide il codice etico per me io lo trovo un po' too much ma ecco questi sono i modi in cui ho tenuto a bada i clienti antipatici ma in realtà ho imparato io a renderli non così antipatici perché alla fine abbiamo ho semplicemente imparato a capire quale parte dei loro obiettivi coincidevano con i miei e quindi quello che non mi piaceva non era le persone in sé ma i loro comportamenti che spesso matchavano andavano si manifestavano semplicemente perché io non avevo comunicato chiaramente il mio valore le regole del gioco il progetto e quindi ho imparato diciamo a trasformare il cliente antipatico in realtà a capire dove potevano esserci ottimi ambiti di collaborazione e siccome l'ho lanciato nella presentazione del mio speech qualcuno potrebbe chiedermi come sono riuscita a raddoppiare il fatturato nel tempo e penso sia normale imparare a crescere anche da questo punto di vista non ho ricette che valgono per tutti condivido la mia nel mio caso ho un piano editoriale sgangherato infatti voglio imparare dalla speaker successiva perché è una cosa che comunque occupandomi di comunicazione mi pesa perché dire non ne ho bisogno ho avuto anche il sito con le ragnatele per anni è una cosa che non è coerente in realtà con quello in cui credo quindi un po' faccio delle cose un po' no perché i miei clienti fondamentalmente non stanno tanto sui social perché sono in azienda in azienda quelli seri vi assicuro che non hanno tempo per i social non faccio campagne se non partecipazione ad eventi e sicuramente un po' ho aumentato i listini ma non ho raddoppiato perché ho aumentato i listini la chiave per me è stata lavorare più che sull'acquisizione continuamente di nuovi clienti lavorare sulla retention quello che voglio dire è che ogni anno ho un 20% di clienti nuovi ma per lo più sono gli stessi con cui ho lavorato due anni fa tre anni fa venti anni fa che tornano e con cui si è creata una relazione di fiducia che fa parte del mio capitale e in particolare quello che posso consigliare a tutti è quando si chiude un progetto non abbiate fretta di fatturare dedicate al cliente il tempo di fare delle valutazioni capire quanto è soddisfatto cosa cambierebbe cosa migliorerebbe e lì è il momento in cui iniziate a vendere i prossimi progetti perché evidenziate cosa servirebbe in termini di bisogni loro questo può essere considerato come qualcosa per cui non c'è tempo ma in realtà nel mio caso è la forma di marketing migliore perché comunque vada ti lasci con l'idea di qualcuno che ha voluto aiutare non solo vendere qualche ora e poi andarsene questa situazione è ideale tra l'altro per immaginare un upselling quindi ti vendo nuovi corsi oppure abbiamo fatto la consulenza potrebbe essere utile un progetto di formazione quindi vendo un po' di più di quello che ti ho venduto oppure ti propongo nuovi nuovi servizi e poi customer relationship management crm non è solo un software ma è anche un'attitudine quindi il mio consiglio è veramente prendetevi cura delle relazioni io un regalo a Natale non lo faccio e non mando gli auguri di Natale al 22 di gennaio perché mi scoccia fare quelle cose di massa che non danno valore agli altri però se oggi leggo un articolo interessante per quella mia cliente le mando whatsapp e le dico ciao Sonia leggi qui che interessante questo ti potrebbe aiutare a e dedico del tempo anche se in questo momento non abbiamo un contratto aperto una collaborazione aperta perché sto lavorando sulle relazioni l'altra cliente che con cui non lavoro da due anni l'HR dell'azienda Ypsilon che ho saputo che aveva un problema di salute poiché comunque è una persona che mi sta a cuore non solo perché ha un interesse ma perché mi piace lavorare con persone con cui c'è fiducia e anche affetto alla fine mi faccio sentire non solo quando devo vendere ma spesso anche quando posso essere utile o far sentire loro importanti spesso le figure aziendali con cui lavoro sono tra il martello e l'incudine sono persone molto stressate che internamente non ricevono anche i giusti riconoscimenti e quindi a volte un esterno che certifichi la loro bravura diventa un alleato prezioso e questa è la mia forma di marketing più efficace chiudo dicendo che come Baden Powell il fondatore del movimento scout diceva non esiste buono o cattivo tempo dipende dall'equipaggiamento mi viene da dire che i clienti non sono né buoni né cattivi dipende molto dalla nostra capacità di avere chiari gli obiettivi e il valore e allinearci e quindi anche il cliente apparentemente più antipatico potrebbe diventare un partner con cui la collaborazione è proficua per cui l'invito è decidi che tipo di clienti vuoi educa lì ma non che nel senso che ti metti educo tiri fuori i comportamenti educo dal latino tiro fuori non nel senso che gli fai da maestrina ma che lì semplicemente abitui a una relazione reciprocamente soddisfatto è soddisfacente quindi che sia piacevole per entrambi io mi auguro di aver condiviso qualche spunto interessante e invece del solito grazie cito Alessandra e il suo mitico hop hop che tante volte mi sono detta da sola quando tendevo a piangermi addosso e dire basta basta l'agne andiamo a fatturare grazie Patrizia davvero devo dire che mi ritrovo molto in tante delle cose che hai detto probabilmente come hai detto tu all'inizio anche perché sono tutte cose che sono uscite fuori spesso in questi anni ti riporto anche qualche commento dalla chat di Hopin dove c'è chi dice che Cardio Marketing è uno dei migliori libri di marketing che abbia mai letto e in realtà in generale si apprezza quest'idea del cambio di prospettiva a me io sottolineerei soprattutto una cosa una frase che hai detto quando sei passata dal cliente non capisce il mio valore al cliente non capisce il valore del mio lavoro del lavoro che posso fare per lui o per lei io credo che questo sia fondamentale mi viene in mente il mio famoso ormai talk sui conti della serma dove alla fine io dico quando avete capito quanto dovreste farvi pagare la domanda molto importante che dovete farvi è li vale veramente cioè se io decido che mi devono pagare x al giorno quanto valore produco per i clienti per cui lavoro è un valore che giustifica questo costo che secondo me dovrebbero pagarmi perché che io abbia studiato tanti anni o mi sia preparata non gliene frega niente a nessuno importa la mia mamma non certo a chi mi dovrebbe pagare per il mio tempo quindi apprezzo molto che tu abbia sottolineato questa cosa ringrazio che ha detto quelle cose belle del mio libro e vorrei chiudere dicendo che uno dei miei lettori diciamo più importanti perché un manager di una grande azienda mi ha detto il tuo libro è pieno di incredibili banalità che nessuno mette in atto e quindi questo è stato un bel complimento che insomma quindi pensiamo a noi di essere utili e i risultati poi vengono smettiamo di piangerci addosso e cerchiamo di portare valore essere alleati e davvero non siamo importanti noi ecco anche questo focus su quanto siamo belli chi se ne fa quanto ho studiato quanti libri ho letto chi se ne frega devo lavorare per migliorare la vita qualcuno altrimenti sì Patrice penso che l'intervento che hai fatto oggi sia proprio come dire prova quello che hai appena detto quindi hai condiviso un sacco di valore roba vera insomma sia dal tuo percorso che cose da fare cose da non fare quindi insomma hai messo insieme sia la capacità di raccontare in maniera molto interessante il tuo percorso e anche tanti sia strumenti che dritte che grazie grazie mille la dritta che mi aspetto di ricevere prima o poi è come fare a guadagnare senza lavorare questa è la mia sfida Ale abbiamo già l'argomento per il prossimo Silence Camp è la sfida del prossimo decennio perché io voglio andare in montagna come Alessandra voglio fare altro io voglio piantare lavanda figuriamo esatto quindi ora bisogna fare in modo che anche quando noi facciamo altro il valore si vada avanti e i libri purtroppo non bastano eh sì no devo dire ci sono in realtà stavo guardando un po' i commenti arrivano altri altri complimenti eh e richieste il corso sull'assertività eh il corso sul un corso più approfondito su questa cosa allora grazie intanto a tutti e tutte di questi spunti anche perché poi noi ci prendiamo gli appunti e nella programmazione degli Zoom Club ne teniamo conto sicuramente c'era una domanda puntuale di Angelo su eh sconti e omaggi Angelo dice eh gli omaggi li decidi tu ehm gli sconti te li chiede il cliente eh cioè com'è questa dinamica questa relazione ma il cliente spesso viene da un'azienda in cui gli viene detto cerca di portare il massimo valore col minimo prezzo quindi spesso lui è contento siccome questa è la logica no? la logica vecchia in cui tu devi tirare il collo ai dipendenti tirare il collo ai fornitori se no non sei figo ok? lui vuole tornare a casa con qualcosa quindi eh se tu ti metti a volte anche imbarazzato dovertelo chiedere perché c'è qualcuno magari dell'ufficio finanziario qualcuno che sta facendo vedere che lui è bravo e quindi rompe le palle al fornitore piccolo perché poi io non vendo progetti da 500 mila euro vendo progetti magari da 10 12 mila euro quindi non sono cifre enormi alla fine lo sconto è anche sminuire il tuo lavoro invece dire guarda lo sconto per farti lo sconto dovrei lavorare a darti meno valore e io ci tengo a darti il giusto valore che abbiamo concordato insieme in sette riunioni di allineamento quello che posso fare per te è darti qualcosa in più che avrebbe quotato per esempio una cosa che ho imparato a fare è parallelamente al corso io do un manuale che viene un po' personalizzato ma di fatto è già pronto che a differenza delle slide è autoportante quindi per esempio sul corso sull'assertività spiega tutti gli esempi cosa vuol dire quando sei aggressivo e quando sei passivo quindi uno è rassente eccetera dà molto valore e questo me lo faccio pagare e magari in quel caso lì ce l'ho pronto lo modifico velocemente e glielo regalo e gli dico guarda varrebbe 1500 euro questo faccio uno sforzo e te lo regalo di solito basta che vadano a casa con qualcosa e sono contenti ecco bene allora grazie di nuovo davvero questo è uno di quei talk che poi riuseremo e rilanceremo senz'altro e alla prossima grazie ora vado ad ascoltare gli altri imparare ciao ciao ciao